Contribuire a realizzare azioni positive volte a promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti recuperati in mare durante le battute di pesca, permettendo di contrastare il danno biologico all'ecosistema marino. E questo è l'obiettivo di Salviamo il mare, l'iniziativa realizzata da Conf Cooperative Puglia nelle marinerie pugliesi di Manfredonia, Biceglie, Bari, Torre Mare, Monopoli e Castro per 143 imbarcazioni coinvolte. Conf Cooperative si sta adoperando utilizzando l'opportunità di questo progetto bando emanato dalla regione Puglia e finanziato dai fondi del FEAMP e con questo progetto stiamo cercando di sensibilizzare un po' tutti quanti, quindi gli operatori del settore e la popolazione intera, proprio per salvare il mare che è pieno di tanti rifiuti e questi rifiuti creano immensi danni anche all'ecosistema marino. Il progetto, che si avvia alla fase conclusiva, è cofinanziato con risorse FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, PO 2014-2020, misura 1.40, attraverso un bando della regione Puglia. Non potevamo esimerci non solo dallo stare vicino, ma da rilanciare l'attività del mare, quella dei pescatori che hanno un grande ruolo, hanno passione, dedizione, hanno la cultura del mare e grazie a loro stiamo facendo importanti progetti, non solo di tutela e conservazione della specie, ma di valorizzazione e la valorizzazione si fa rispettando il creato, rispettando il mare e pulendo il mare da tutto quello che ai noi viene buttato in mare o lasciato andare in mare. Quindi questo connubio è fondamentale rispetto a tutte le azioni di rilancio che come assessorato stiamo facendo sulle politiche del mare e del pescato. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto plastica, finiscono nei mari. Il progetto, realizzato in partnership con il Centro Italiano Ricerca e Studi per la Pesca, prevede, tra le diverse attività, anche la realizzazione di una app per geolocalizzare i luoghi in cui i pescatori raccolgono i rifiuti e un ciclo di incontri per coinvolgere e sensibilizzare sul tema stakeholder pubblici e privati, società civile e scolaresche.